Durante il Consiglio dei Ministri, il Presidente Meloni ed io abbiamo ricordato la figura di Silvio Berlusconi, che è l'uomo che più a lungo di ogni altro durante l'Italia Repubblicana ha guidato il governo di questo Paese. Ecco, ho voluto ricordare l'umanità di questo uomo che si è battuto sempre per gli ideali nei quali credeva che che possano dirne i detrattori. E uno di questi ideali era la giustizia giusta per ogni cittadino che potesse essere giudicato con le regole e con le garanzie che in una democrazia spettano ad ognuno di noi. Sarebbe soddisfatto se potesse essere qui ad ascoltare le parole del Ministro Nordio per quanto riguarda le decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri in materia di diritto penale.